Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto migranti, dalle pene al contrasto del traffico illegale. Trovato il corpo di un altro minore, vittima del naufragio dal barcone e carico di migranti, è avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro. Sovraffollamento carceri, in arrivo nuovi agenti penitenziari anche in Calabria. Agenda Calabria, il piano per il rilancio dell'economia regionale. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Non solo Urla e Peluche per il governo Meloni a Cutro. Sono stati anche tanti i simpatizzanti di centrodestra che hanno voluto dare il benvenuto alla Premier in Calabria. Se all'arrivo il Premier Giorgia Meloni è stata accolta da Urla e Lanci di Peluche, al termine del Consiglio dei Ministri e della relativa conferenza stampa hanno prevalso i sentimenti positivi verso di lei, che non ha tralasciato di salutare tutti e soprattutto di ringraziare le forze dell'ordine che hanno fatto gli straordinari per permetterle questa venuta in Calabria. Buonasera, ringraziate le forze dell'ordine. Buonasera. Andiamo a chiara, bimbi, andiamo a chiara, andiamo a chiara. Buonasera. 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 Quindi due facce della stessa medaglia, viste soltanto in base alle connotazioni politiche. Lungo il tragitto hanno preferito sostare gli oppositori, forse anche per marcare la loro lontananza di pensiero da quello del Governo. E in piazza del Comune invece sostavano gli amici e gli alleati, per vedere la leader del centrodestra da vicino, con compiacimento per il fatto che abbia deciso di fare un Consiglio dei Ministri proprio nel Comune dove si è consumato il naufragio. Intanto, a ricordo dell'evento, è stata posta una targa di marmo dove sono state riportate sia le parole di monito di Papa Francesco, sia quelle del Governo. L'Italia onora la memoria delle vittime del naufragio del 26 febbraio 2023 e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il massimo impegno per contrastare la tratta degli esseri umani, la tutela della dignità delle persone e per salvare vite umane. Il Consiglio dei Ministri, convocato ad hoc nel paese del naufragio, ha approvato le disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, allargando le maglie per i numeri dell'accoglienza degli stranieri e imprimendo un giro di vite per le sanzioni combinate dagli scafisti. Dal provvedimento è stata eliminata la norma che mirava ad aumentare la sorveglianza marittima dando ruolo maggiore alla marina militare. Dal lato puramente simbolico ai dati di fatto, dall'aver simbolicamente trasferito per un pomeriggio il Consiglio dei Ministri a Cutro alle decisioni, non simboliche ma concrete, assunte nel corso di questa insolita riunione fuorisede del Governo. Al di là di ogni considerazione che aspetta la politica, al di là delle proteste e dei consensi, ciò che rimane, quale atto formale, è rivendicare la linea dura e, al tempo stesso, dimostrare solidarietà e vicinanza ai familiari delle 72 vittime di questo naufragio. Il Governo a Cutro ha deciso di inaspirire le pene per gli scafisti e i trafficanti di uomini, portandoli fino a 30 anni e rendendo il reato perseguibile in Italia anche se compiuto in acque internazionali. Nel contempo, il Governo ha deciso alla riapertura dei flussi regolari per far capire ai potenziali immigrati che conviene arrivare in Italia regolarmente piuttosto che affidarsi a scafisti senza scrupoli. Dunque, dopo giorni di attacchi e di polemiche, il Premier Giorgia Meloni arriva a Cutro, a pochi chilometri dal tratto di mare dove hanno perso la vita 72 migranti. Questo è il dato ufficiale ad oggi, ma l'aggiornamento è traumaticamente continuo. Schiera i suoi ministri, mettendoci la faccia per annunciare una raffriga di provvedimenti che aprono l'accoglienza ai migranti regolari con il decreto flussi ed allungano i permessi di soggiorno, ma chiudono in modo perentorio a quelli irregolari, puntando anche alla eliminazione dei permessi di protezione speciale, fermo restando il diritto d'asilo. Presentati questi provvedimenti nel corso di una conferenza stampa che non ha stemperato il clima teso, prova a smentire spaccature nella sua maggioranza, sottolineando che il decreto è stato votato all'unanimità e definendo surreali le ricostruzioni che descrivono una maggioranza divise. Questa, che comunque la si voglia giudicare, resterà una giornata storica per la piccola cittadina di Cutro trasformata per un pomeriggio nella sede del governo italiano, sarà ricordata come il giorno in cui è stato introdotto un nuovo reato, quello per morte o lesioni come conseguenza di delitti su materia di immigrazione clandestina, con la relativa pena in caso di morte di più persone, che sarà da 20 a 30 anni. E, come detto, sarà un reato universale, cioè perseguito dall'Italia anche nel caso, per esempio, di un naufragio in acque internazionali. Basterà dissuadere i trafficanti di esseri umani? Servirà ad impedire a scafisti senza scrupoli di provocare altre stragi drammatiche come questa di Cutro? Ed è stato trovato il corpo di un altro minore vittima del naufragio del balcone, carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro. Si tratta di una bambina di circa 6 anni che giaceva sulla battigia dove era stata trascinata dal mare. A trovare il corpo sono stati alcuni cittadini che hanno avvertito la guardia costiera. È la 73esima vittima accertata del naufragio, la 29esima minorenne e la 20esima nella fascia d'età compresa tra 0 e 12 anni. Intanto è stata fissata per il 17 marzo la prima udienza dell'incidente probatorio del procedimento a carico del minorenne che sarebbe stato uno degli scafisti del barcone carico di migranti e naufragato. L'incidente probatorio si svolgerà davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Catanzaro. Si è svolto al cimitero di Borgo Panigale in provincia di Bologna il rito funebre per le sette salme dei migranti naufragati il 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro. Il funerale è stato ufficiato da Yassin Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia e hanno partecipato anche il sindaco di Bologna e l'assessore regionale alle politiche per l'immigrazione. Hanno partecipato in tutto 150 persone provenienti principalmente dall'Afghanistan, paese di origine di tutte e sette le vittime che sono state trasferite a Bologna dal Palamilone di Crotone. E ancora arrivi nel mar Mediterraneo la guardia costiera in soccorso di circa 1300 persone su imbarcazione che stanno cercando di raggiungere l'Italia. Tre motovedette stanno operando a circa 70 miglia a sud di Crotone per prestare soccorso ad un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della guardia costiera, la nave d'Attilo e ulteriori tre motovedette stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano a 100 miglia da roccella ionica. Cambiamo argomento sull'autostrada A2 nei pressi di Mormanno in provincia di Cosenza. In direzione Salerno si è ribaltata una cisterna che trasportava gas all'interno della galleria Colletrodo. Le squadre ANAS sono state impegnate nella notte nelle operazioni di rimozione di un'autocisterna che si è ribaltata sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all'interno della galleria Colletrodo nel territorio di Mormanno in provincia di Cosenza. Nell'impatto una persona è rimasta ferita. Per causa ancora in corso di accertamento il sinistro è coinvolto due mezzi pesanti provocando il ribaltamento della cisterna. Sul posto il personale ANAS, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Per molte ore si sono registrati lunghi rallentamenti per effettuare la pulizia del piano viabile. Sovraffollamento delle carceri in arrivo a nuovi agenti anche in Calabria. Lo ha annunciato il sottosegretario all'interno del Mastro delle Vedove durante la commemorazione a Cosenza per Sergio Cosmai ucciso 38 anni fa in un agguato di indrangheta. Le carceri calabresi patiscono come tutte le carceri italiane di sovraffollamento e mancanza di organico. Stiamo rispondendo con 1.700 nuovi giovani allievi che approderanno nei vari istituti penitenziari anche in quelli calabresi che meritano particolare attenzione. Sono queste le dichiarazioni del sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Del Mastro dove a Cosenza ha partecipato alla cerimonia commemorativa del direttore della Casa Circondariale di Cosenza Sergio Cosmai ucciso in un agguato il 12 marzo del 1985 sulla strada che collega Cosenza a Roges di Rende. Abbiamo previsto mille extra assunzioni di uomini e donne della polizia penitenziaria oltre a quelle legate al turnover. Ha poi aggiunto il sottosegretario previsto 84 milioni di euro per nuovi padiglioni per un piano di edilizia carceraria e il trasferimento dei detenuti stranieri a scontare le pene nei loro paesi di provenienza per saggiare la civiltà giuridica delle loro celle. Il sottosegretario Del Mastro è stato accompagnato dalla sottosegretaria al Ministero degli Interni Vandaferro non si cede alle pressioni, alle minacce alle pressioni intra ed extracarcerali ha sostenuto ancora il sottosegretario questo è l'esempio lasciato da Cosmai che è stato un gigante della storia che non si è inginocchiato. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata sull'Aspromonte secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia l'epicentro è stato individuato a 5 chilometri dal comune di Santo Stefano d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria ad una profondità di 9 chilometri Recuperate le somme per i primi interventi sulla strada provinciale 73 la strada che collega la frazione Belloro di Benestare alla frazione Gentile di San Luca Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace accompagnato dal consigliere delegato Domenico Mantegna ha effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale 73 la strada provinciale che collega la frazione Belloro di Benestare alla frazione Gentile di San Luca è un'arteria molto importante ha ricordato così il consigliere Mantegna nel ringraziare Versace per la sensibilità dimostrata nel rispondere prontamente alla richiesta di intervento formulata nel corso delle ultime settimane la strada provinciale 73 ha spiegato il consigliere delegato pur rappresentando un percorso particolarmente significativo da decenni verso in uno stato di degrado si presenta in più parti dissestata in necessità di interventi mirati proprio per questo insieme ai tecnici della città metropolitana siamo riusciti a recuperare alcune somme proprio per risolvere le criticità più urgenti eccoci sulla SP 73 una strada provinciale che collega la frazione Belloro di Benestare con la frazione Gentile di San Luca quindi una strada importante di collegamento ma una strada abbandonata da diversi decenni dissestata e io ringrazio pubblicamente il sindaco Versace che ha accolto le mie istanze le mie richieste e diciamo siamo riusciti con gli uffici con i tecnici della città metropolitana a racimolare quantomeno un piccolo contributo economico per riuscire a risolvere alcune emergenze che ci sono su questa strada perché non ci sono solamente problemi di appunto di manutenzione ordinaria ma è una strada che ha problemi anche di di natura di sicurezza perché mancano dei parapetti un po' di un po' di tutto siamo qui abbiamo voluto fare un piccolo sopralluogo per renderci conto appunto delle problematiche e faremo un primo intervento che non sarà risolutivo di tutte le problematiche che oggi abbiamo riscontrato ma è già un grande passo in avanti visto che era da tanti anni che non si facevano degli interventi su questa importante strada Agenda Calabria il piano di strategia di sviluppo industriale elaborato da Unindustria Calabria per il rilancio dell'economia regionale un incontro alla cittadella regionale al quale hanno partecipato il presidente della regione Roberto Chiuto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara il direttore del centro studi di Confindustria Alessandro Fontana e il sottosegretario di Stato all'interno Vandaferro Sono molto felice di questo rapporto con Confindustria sono riconoscente al presidente Bonomi al presidente Ferrara perché Bonomi non è qui per la prima volta abbiamo interloquito altre volte concretamente sulle questioni che riguardano lo sviluppo della Calabria e quindi lo sviluppo del paese la Calabria ha una grande responsabilità deve dimostrare di saper cambiare passo di saper diventare una terra dove lo sviluppo può essere prodotto il paese ha una grande responsabilità nei confronti della Calabria perché la nostra regione può essere davvero l'Hub dell'Italia e dell'Europa sul Mediterraneo che sta diventando in maniera crescente il centro del nuovo paradigma dell'economia europea quindi sono molto felice che Confindustria abbia voluto regalarci questo studio che è prodotto da uno dei servizi studi più importanti del paese più qualificati del paese sarà uno strumento che conterrà le linee di azione sulle quali muoversi per determinare sviluppo nella nostra regione io credo che sia un progetto importante quello che viene presentato oggi 70 pagine un dono da parte dell'industria dell'industria italiana e in particolare quella calabrese a una regione che noi sappiamo può dare tanto e da cui ci aspettiamo tanto lavorare insieme la prima cosa da fare è lavorare insieme pubblico e privato e oggi questo è un esempio di come pubblico e privato possono veramente insieme fare qualcosa per il proprio paese io ho dichiarato che ovviamente siamo molto ansiosi di vedere questa riforma non abbiamo ancora un testo quindi non possiamo dare nessun giudizio noi ci aspettiamo una riforma organica lo dichiariamo da tempo una riforma del fisco ha senso se è organica e se parliamo di fisco di impresa noi pensiamo che si debba cambiare il paradigma cioè non più un fisco volto solo a essere visto come gettito fiscale per lo Stato ma un fisco amico così è stato dichiarato delle imprese di chi vuole fare che premi chi investe che premi chi capitalizza le proprie imprese se invece si pensa di utilizzare il fisco di impresa come leva invece per le assunzioni noi crediamo che sia un'altra la strada che sono le decontribuzioni tante mimose durante l'inaugurazione avvenuta presso la sede della nuova scuola pitagorica della mostra storia di donne promossa dalla commissione pari opportunità del comune di crotone la mostra è dedicata alle donne afghane e iraniane durante l'inaugurazione presso la sede della nuova scuola pitagorica Bico Municipio 1 nei pressi del Duomo della mostra storia di donne promossa dalla commissione pari opportunità del comune di crotone con la direzione artistica di Gaspare da Brescia proprio in questo periodo dopo diciamo la tragedia che si è consumata sulle coste calabresi parlare di vita secondo me è importante la vita va avanti si continua fermo restando il contributo che dovremmo dare noi e non può restare lì ad una tragedia consumatasi senza prendere posizioni al di là di quello che è il dibattito politico a livello nazionale io penso che come crotonesi dobbiamo come dire armarci di coraggio prendere posizioni fare sentire la nostra voce perché non possiamo lasciare che si senta solo un grido di dolore di queste mamme che hanno perso i figli mariti fratelli sorelle quindi non può restare un grido di dolore tanti quadri diversi artisti che raccontano la donna in un ricco calendario di appuntamenti quotidiani che si concluderanno domenica 12 marzo si la mostra è nata per caso per un'idea guardi noi eravamo venuti qui non come commissione ma come amiche che cioè alla fine in questa commissione alle pare opportunità si è creato un gruppo di lavoro va bene siamo diverse l'una dall'altro però come dire abbiamo legato dall'inizio e c'è una sorta di collaborazione ma proprio perché è un inno alla donna abbiamo pensato anziché ridurci al solito fascio di mimose donata il giorno dell'8 marzo abbiamo voluto dedicare proprio alla donna una mostra che durasse almeno 7 giorni ed eravamo alla ricerca del luogo dove fare la mostra e poi fra l'altro si presenta una galleria bellissima nel centro della città poco conosciuta e io sono felice perché grazie a questa manifestazione che abbiamo organizzato è stato un modo per fare conoscere anche ai crottonesi di bellezze di luoghi dove si pratica la cultura che magari non se ne era a conoscenza poi nel giorno della festa della donna una mimosa su ogni giacca durante l'evento di presentazione del libro di poesie di Domenico Frontera dal titolo Caos e limite contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan endometriosi solo perché non la conosci non vuol dire che non esiste con questi due messaggi esposti sul balcone del palazzo comunale di Crotone l'8 marzo la commissione per opportunità ha inteso celebrare la giornata della donna insieme al presidente di Confcommercio che offre la sua vicinanza costante alle attività della commissione un anno di Crotone ok in edicola la rivista molto attesa da tutti i crotonesi che racconta tutta la positività espressa da questo territorio nei 365 giorni 12 mesi pieni raccontati con passione con particolari e con tante immagini non perdetevi questo appuntamento in edicola un anno di Crotone ok è la rivista che racconta il 2022 dei crotonesi diciamocelo pure è una vera e propria tradizione di questa città e torna un anno di Crotone ok la rivista patinata che racconta la positività di questo territorio nei 365 giorni prima un anno di Crotone ok con i suoi riconoscimenti al personaggio ok dell'anno al messaggio ok ad un ok rosso-blu premio Peppino Messinetti e dall'anno scorso alla menzione ok da quando si è deciso di realizzare un inserto all'interno di Crotone ok dove si poteva raccontare un'informazione un po' diversa ma tirare fuori le positività e le cose belle fatte nell'anno passato essendo che l'inserto ok doveva uscire per il nuovo anno per iniziare un nuovo anno alla grande bisogna partire sempre dalle cose positive e mai da quelle negative un anno di Crotone ok nasce come inserto che poi è diventata un allegato della testata e oggi la possono trovare in edicola con una bella rivista patinata 56 pagine dove raccontiamo i 12 mesi del territorio in ogni mese sfogliando la rivista ben 51 ok mese dopo mese abbiamo tentato di estrapolare tutto quello che c'è di positivo di bello all'interno della nostra provincia e vi posso garantire che abbiamo trovato tante belle cose che la mia redazione durante l'anno ha inserito all'interno della testata Crotone ok Gregorio Munga di Cutruzzola il personaggio che il 2022 il rappresentante legale della società Alfa 21 è stato scelto dalla redazione di Crotone ok come simbolo di positività di tenacia di determinazione poiché il 2022 se ricordate è stato un anno d'oro per le crociere nel porto di Crotone dove sono approdate 29 navi e scesi tantissimi turisti una persona che non è la più brava o la migliore ma dare questo premio che l'abbiamo chiamato anche personaggio ok a chi porta più in alto possibile il nome della città di Crotone e quest'anno forse il personaggio scelto è la persona è un sognatore mi piace proprio quello che è stato dato quest'anno il premio un ok rosso-blu premio Peppino Messinetti è stato invece assegnato il giovanissimo donatore Gianluca Pittelli che a marzo 2022 ha partecipato ai campionati nazionali giovanili di nuoto diventando così il campione italiano nella categoria Centrometri Rana il messaggio che il 2022 è stato conferito a Gianni Vrenna FC Crotone BB Group Antonella Stasi Gruppo Marrelli Luca Mancuso Fennimprese Antonio Casillo di Confcommercio che si sono caratterizzati per un impegno costante a favore della città la menzione ok va a Carlo Gallo e il 2022 per l'attore crotonese è stato un anno davvero d'oro ricco di soddisfazioni di ciac e si pari aperti è tutto per questa edizione vi lascio ora con le notizie dell'Italia e del mondo grazie per aver seguito il nostro TG ancora migranti alla deriva nel Mediterraneo dopo la tragedia di Cutro la guardia costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1300 persone su imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere l'Italia tre motovedette stanno operando a circa 70 miglia sud di Crotone per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo altre unità della guardia costiera stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano invece a circa 1000 miglia da roccella ionica i soccorsi risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva intanto a Cutro è stata rinvenuta la 73esima vittima è un bambino di circa 6 anni il cui corpo è stato trovato sulla battigia dove è stato trascinato dal mare nel suo secondo giorno di visita in Italia il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del consiglio Giorgia Meloni Israele è un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale ha affermato Meloni dopo il colloquio con Netanyahu che a sua volta ha ribadito l'amicizia di lunga durata con l'Italia e si è detto pronto ad ampliare la collaborazione con il nostro paese un impegno già annunciato dal primo ministro israeliano questa mattina al forum economico delle imprese ci saranno ingenti investimenti nelle infrastrutture ha detto Netanyahu vogliamo ampliare il settore del gas per aumentare i flussi verso l'Italia e da qui all'Europa la Russia prosegue le indagini sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream punta il dito contro gli Stati Uniti per noi è chiaro che la responsabilità di questo palese atto terroristico senza precedenti è di Washington ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo intanto il presidente Zelensky ha ribadito in un'intervista alla CNN che non intende confrontarsi personalmente con l'omologo russo Putin non mantiene la parola dice il presidente ucraino intanto secondo il Financial Times l'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania ma non è ancora operativo a Damburgo in Germania otto persone sono morte altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria la carneficina è avvenuta all'interno di una chiesa di testimoni di Geova a compiere la strage è stato un ex membro della stessa comunità che si è ucciso durante l'assalto tra i feriti anche una donna incinta al settimo mese sopravvissuta all'attacco è morta invece la bimba che aveva in grembo le autorità di Hamburgo hanno dichiarato che non ci sono indicazioni che sia un atto di terrorismo Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese 70 anni da compiere il prossimo 15 giugno Xi è stato votato all'unanimità dai delegati del Congresso Nazionale del Popolo che gli hanno affidato un nuovo mandato di 5 anni con questa rielezione Xi che lo scorso ottobre era stato anche riconfermato alla guida del Partito Comunista Cinese diventa il presidente della Cina più longevo dalla vittoria comunista del 1949 Papa Francesco non pensa alle dimissioni e lo ribadisce per l'ennesima volta ma in un'intervista alla TV Svizzera chiarisce anche che è una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose la mancanza di chiarezza di saper valutare le situazioni lo spingerebbe a darle e anche un problema fisico può darsi per il pontefice quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica anche se adesso sta guarendo bene grazie a tutti grazie a tutti